salve a tutti sono micweb e sono qui oggi non proprio per un tutorial mancano quasi tre settimane natale e volevo farvi un piccolo regalo di natale come vedete ho aggiornato il mio template lo stile natalizio una cosa carina ci sono parecchi template al riguardo però la maggior parte non sono gratuiti ho fatto una selezione di quelle secondo me più carini ne ho scelti quattro che metterò qui sul video sulla descrizione sono gratuiti possono essere scaricati gratuitamente e installarli manualmente installazione di un template ve lo faccio ve lo mostro un attimo questo è il template natalizio con l'aggiunta di un plugin del babbo natale che si muove se come vedete se scrolla la pagina c'è babbo natale che mi segue lo scopo in alto babbo natale ormai già stanco di andare sempre giù e giù vi mostro una pagina la pagina un po più lunga che si nota di più eccolo qui nevica tra un po comparirà babbo natale eccolo la sta scendendo scrolla la pagina mi sta seguendo aiuto aiuto c'è babbo natale che mi sta seguendo no è giusto per scherzare questo è un plugin per aggiornare appunto la vostra pagina internet il tema di natale mancano tre settimane è una bella cosa se ognuno di voi aggiorna la pagina internet il vostro blog in tema natalizio vi metto sotto la descrizione il link può essere scaricato gratuitamente quindi non ci sono problemi andiamo a scaricare il pacchetto vediamo cosa c'è c'è una cartella la cartella è qui ve la mostro ci sono ci sono 4 template che ho scelto per voi in formato zip e adesso vi faccio vedere come si installa un attimo che mi logo mi logo sulla nostra bacheca come sempre dp-admin ecco qui mi logo mi faccio vedere i template che ho soluzionato per voi questo è il plugin che intende che vi ho spiegato è un semplice plugin si chiama mary christmas everyone cos'è questo questo template anche gratuito si può aggiungere anche la musica però quella musica dipende se avete i diritti ho evitato ho scelto questo babbo natale o questo come vedete qui è un plugin fra la neve e il babbo natale insomma si chiama mary christmas everyone tornando ai templates ai temi che vi ho soluzionato eccoli qua sono questi quattro qui questo questo e questo ve li mostro uno a uno questo è quello che ho a un momento attivato anteprima questo è un altro che ho selezionato per voi niente di speciale però insomma è carino con il tema di natale torniamo indietro attiviamo questo eccolo qui anche questo non è male come vedete la neve e il babbo natale fa parte del del plugin è l'ultimo vi faccio vedere anche l'ultimo che ho selezionato per voi e questo che è abbastanza neutrale e questo sarebbe anche il quarto template che ho selezionato per voi ce ne sono tanti ma credetemi di templates gratuiti non ho trovato neanche uno o pochi appunto mi sono scelto questi quattro perché veramente pensavo ci fossero molti di più gratuiti invece tema stagionale purtroppo non sono non sono gratuiti bisogna acquistarli per 30 40 dollari insomma comunque se volete potete cercarne ancora in internet fate attenzione appunto che siano gratuiti come si fa ad installare il template che vi ho messo a disposizione aggiungi nuovo carica tema e qui me lo vado a cercare dalla cartella qui e devo solo aprirlo e caricarlo ho installato il tema si può installare i temi di wordpress scaricando i dati manualmente via zip e poi ricaricarli su wordpress bene per questo piccolo tutorial è tutto spero di aver fatto cosa gradita come dicevo il link ve lo metto è questo ve lo metto giù in descrizione questo è il mio template di natale che mi piace vi auguro una buona giornata buon natale ancora presto ci sentiamo prima di natale cercherò di fare ancora qualche tutorial vi ringrazio per l'attenzione il link per scaricare il tempo sotto la descrizione se vi è piaciuto il video pollici in alto commenti sempre aggrediti critiche anche se volete non perdere più neanche un video abbonatevi al mio canale ogni domenica a mezzogiorno ci sarà un nuovo tutorial più o meno ormai siamo arrivati alla fine della serie di wordpress i prossimi tutorial che farò riguarderanno probabilmente il mondo iMac del Mac oppure passerò all'installazione di Joomla vediamo insomma se avete delle domande fatele pure ho intenzione di fare parecchi tutorial riguardo il mondo dell'internet serva installazione di Teamspeak Ubuntu iMac iMaze eccetera eccetera va bene grazie per l'attenzione alla prossima ciao